Eccoci di nuovo qui per rivedere altri esercizi su App Inventure 2, questa piattaforma del Meet che ci permette di sviluppare app Android. Abbiamo iniziato con la presentazione dell'ambiente di sviluppo e poi abbiamo fatto già i primi due esercizi. Oggi ci accingiamo a fare l'esercitazione numero 3 e prima di cominciare vi ricordo che il libro di riferimento al quale noi ci orientiamo per lo sviluppo delle esercitazioni e quindi troveremo su questo a pagina 34 l'esercitazione che faremo oggi, in particolare è quella che si chiama Componente Text Box. Leggeremo e metteremo in pratica i contenuti di questo esercizio tentando di realizzarlo direttamente insieme a voi. Abbiamo qui come al solito il collegamento con lo schermo vero del smartphone Android e quindi costruiremo utilizzando i componenti che ci mette a disposizione il Meetup Inventure 2. Vedremo man mano che lo costruiamo come compare sullo schermo. Per fare questo dovremo collegare, come sapete già, ma lo ripetiamo, ecco l'applicazione che viene messa a nostra disposizione, il Companion che ci presenta questo schermo con il quale ci fa scegliere il tipo di collegamento che noi vogliamo. Qui possiamo scegliere dalla voce di menu Connect, sceglieremo AI Companion e così in questo modo tutto quello che noi faremo comparirà direttamente anche sullo schermo del nostro smartphone. Adesso io devo scegliere che tipo di collegamento voglio, o inserendo il codice, il codice ce lo sta riferendo qui in questa zona dello schermo e potrei scriverlo direttamente qua. Oppure, ancora più semplice, possiamo cliccare su Scan QR Code e questo ci permette, come siamo già abituati, ormai lo conosciamo questo metodo, possiamo inquadrare con la fotocamera del nostro telefono, quel codice e dopo qualche secondo vedrete che lo schermo del telefono cambia perché riproduce quello che noi costruiremo qui dentro. Adesso è vuoto, c'è scritto semplicemente Screen1 che è il titolo che viene assegnato a questo schermo. Si può lavorare nella programmazione con più schermi, ma quello di partenza è quello che compare anche qui, Screen1, che poi ci permetterà di aggiungerne altri secondo gli esercizi che noi faremo in seguito. Per il momento stiamo scegliendo di utilizzare l'interfaccia in inglese perché i comandi che troviamo nel testo di riferimento sono in inglese, anche se il testo che io vi ho consigliato, questo testo di Antonio Taccetti, credo che sia l'unico, se non uno dei pochissimi in italiano e comunque noi lo eseguiamo direttamente e quindi potrete utilizzare come guida quello che facciamo adesso. Lo scopo di questo terzo esercizio vuole mettere in gioco il componente TextBox e illustrare come può essere utilizzato, come può essere utile nelle app che noi faremo. Quindi per ogni componente utilizzeremo un esempio, così come è suggerito nel testo App Inventor 2, per esempio. E questo primo esercizio, non è il primo, è il terzo, diciamo il primo di oggi, si chiama applicazione App TextBox. Siamo già nello schermo di partenza in cui ci permette adesso di creare un nuovo esercizio, quindi vado su Project, clicco, scelgo Start New Project e mi darà la possibilità di scrivere qui il nome. Noi utilizziamo quello che viene suggerito dal libro, così non ci confondiamo e quindi lo chiamiamo App, una lineetta bassa, cioè l'underscore, TextBox, cioè il box di testo. Ok, 2. Sarà per noi questo il nome del file che viene salvato automaticamente nell'area cloud, cioè quello che ci mette a disposizione proprio il Meetup Inventor online. Questo rende obbligatorio avere a disposizione anche l'attenzione del server di App Inventor e quindi se ci fossero dei rallentamenti sarebbero dovuti semplicemente al traffico che c'è con il collegamento al server dell'MIT. Dunque, prima cosa qui ci propone di fare un esercizio con il componente TextBox e quindi ce lo andiamo a prendere subito, andiamolo a cercare nell'elenco di questi che si chiama Embedded e quindi sono incorporati a disposizione e il TextBox è questa casella di testo tradotto in italiano. Lo trasciniamo e lo lasciamo cadere in questa zona e poi aggiungiamo una label che sappiamo già come usare perché l'abbiamo vista nell'esercizio precedente. Infine aggiungiamo anche un button che l'abbiamo già conosciuto nell'esercizio precedente ancora. Quello che ci interessa è vedere che cosa succede nel primo componente, nel primo elemento e quindi adesso dobbiamo assegnare delle proprietà a questo componente. Prima di tutto utilizziamo questa buona abitudine di dare un nome anche se vengono assegnati automaticamente i nomi ai componenti. Se lo seleziono di qui, direttamente nell'area del viewer, cioè del visualizzatore, allora viene selezionato e messo in evidenza anche qui nella colonna dei componenti e quindi io posso cliccare sul pulsante Rename e dargli il nome. Abbiamo detto che questa è una textbox, quindi noi gli daremo il nome textbox. Uno può anche andar bene per il momento, non lo cambiamo, quindi semplicemente lo lasciamo così come suggerisce il libro. Allora andiamo avanti con il secondo componente, la label. Si è già evidenziata. Clicchiamo su Rename e quindi scegliamo come nome e come nome diamo una L minuscola e alla quale poi segue il nome risultato. L minuscolo è risultato. Dunque poi andiamo a selezionare il textbox button1 e come vedete si seleziona automaticamente anche qui dentro, scegliamo il Rename e qui diamo il nome. Questo è un bottone, un button, quindi gli diamo B minuscolo e il nome moltiplica. Allora qui diamo OK, viene assegnato il nuovo nome. Oltre che al nome, dargli anche quello che deve comparire nell'area del display. E quindi su textbox, questo che vado a selezionare, io adesso posso dare una hint. Che cos'è? È un suggerimento che viene scritto con un carattere sbiadito quando è ancora vuoto per suggerire all'utilizzatore che cosa si aspetta all'app che noi ci andiamo a scrivere. Qui per esempio possiamo dare come suggerimento scrivi qui un numero e lo andiamo a fare nella colonna delle proprietà. Andando a scorrere qui trovate la proprietà hint. Qui clicchiamo cancellando quello che c'è già scritto e scriviamo invece scrivi qui un numero. Quindi diamo un clic fuori e lo vediamo, scrivi qui un numero, è comparso già nel display del telefono. Quindi se avete anche voi collegato il vostro telefono, date un'occhiata proprio al display e vedete che corrisponde effettivamente così. E ogni cambiamento che facciamo in tempo reale compare anche sul telefono. Dunque adesso possiamo a questo assegnare anche una proprietà di dimensione. In particolare adesso si è allargato semplicemente di quello che è sufficiente per contenere la frase che noi abbiamo scritto. Invece noi vogliamo fargli occupare tutta l'area di larghezza. Quindi adesso che è ancora selezionato andiamo nella colonna delle properties, cioè delle proprietà e scegliamo wide, cioè larghezza. Per il momento è selezionato automatico. Noi invece clicchiamo su fill parent che vuol dire riempi completamente il genitore. Il genitore in questo caso è il contenitore che è lo schermo screen one. Quindi prende la larghezza dalla larghezza del schermo screen one. E diamo ok. Vedete come si allarga automaticamente e lo vedete anche sul telefono che corrisponde. Passiamo al componente level one. E qui abbiamo già dato il nome risultato. Non scriviamo niente qui nell'area del testo per il momento. Ma gli diamo comunque la larghezza fill parent. E lo prendiamo anche qui dalla colonna properties. Su wide, cliccando, compare automatic e noi scegliamo fill parent. Ok. Anche qui si è allargato. Se vogliamo possiamo anche aumentare la dimensione del testo. Da 14 passiamo a 22. Vediamo invio. Così vedete che anche l'altezza di questa label si è adeguata all'altezza del carattere che stiamo utilizzando. 22 punti. Possiamo adesso andare a cliccare sul terzo componente, text for bottom one. E qui abbiamo dato come nome b moltiplica. Il motivo è che noi vogliamo fare questa applicazione come una moltiplicatrice. Qui inviteremo a scrivere un numero e poi verrà trasformato nel suo doppio. Quindi dovremo fargli dare un comando che moltiplica per due. Allora qui per il momento vediamo come nella colonna properties di moltiplica e scriviamo su text moltiplica per due. E fa il doppio. E dai diamo invio. Qui in questo caso siccome lo spazio in larghezza era più corto si è stretto automaticamente. Ma adesso che è selezionato andiamo anche qui a scegliere wide. E quindi anche in questo caso clicchiamo su fill parent e ok. Così anche questo pulsante ha preso tutta la larghezza che gli è messa a disposizione dal contenitore. E cioè lo schermo screen 1. Siamo pronti adesso per cominciare a scrivere proprio il codice. E allora possiamo andare a cliccare sul pulsante blocks. Vedrete che si scambia la rappresentazione da designer cioè progettazione. Passiamo a blocchi. Qui si scrive la logica cioè i comandi. Spostiamo il display perché ci servirà questo spazio per cominciare a costruire. Quello che noi vogliamo fare abbiamo detto deve essere un unico comando. Quindi andiamo a prendere dal quando si clicca sul tasto moltiplica che è questo. Quindi selezioniamolo qui e vediamo comparire tutti i blocchi che sono adatti a questo componente. Questi di color oro sono i componenti attivi che controllano continuamente se viene cliccato oppure se ottiene il focus oppure se stiamo facendo un lungo click. Questo naturalmente è su Macintosh che ha il valore di un doppio click invece su PC Window. Lost focus significherà che perde il focus così poi se noi facciamo un click quindi un touchdown e questo avviene sullo schermo del telefono oppure naturalmente un touch up quando noi lo rilasciamo. E quindi andiamo a prendere il primo blocco che è quello che ci serve. Quindi quando nella versione in italiano direbbe per sempre vi moltiplica il nome che abbiamo dato al pulsante. Quando si fa clic su questo pulsante che cosa deve fare? Beh intanto deve impostare la label risultato a quello che noi scriviamo. Quindi dobbiamo allora andare a utilizzare il set risultato. Andiamo sul label risultato, la selezioniamo, ci compaiono, in questo caso ci compaiono soltanto i blocchi verdi che sono quelli che indicano il comportamento. E quindi noi andiamo a cercare set risultato punto text, set label risultato punto text to, questa qui, questo blocco ci permetterà di impostare, ecco andiamo a incastrare in questa morsetta e quindi inseriamo il blocco. Adesso però dobbiamo anche dirgli che cosa, qui dovrà andare ad impostare il risultato al valore di ciò che lui prende dal text box 1 moltiplicato per 2. E allora dobbiamo farlo andando a prendere nel built in, andiamo a prendere nell'area mat, perché dobbiamo fare una moltiplicazione. E quindi guardate che ce n'è proprio una già pronta, questa che permette di tirar fuori, ecco qui, permette di incastrarsi con il blocco precedente e ha già lo spazio adatto per altri due blocchi, che saranno quelli che determinano poi il valore del risultato. E quindi noi metteremo text box 1 punto text, lo andiamo a prendere sempre, dunque in questo caso, dal label, text box 1 punto text, ed è senza l'incastro finale, dunque text box 1 punto text, però è senza l'incastro finale, quindi è questo. Lo andiamo a inserire qui, moltiplicato per 2. Adesso questo 2 lo andiamo a prendere su mat e prendiamo, scopriamo con la rotella verso l'alto, prendiamo il primo blocco, quello più piccolo, che contiene lo 0, ma noi ci clicchiamo dentro e scriviamo 2. Questo è il fattore del moltiplicatore. Questo dovrà succedere quando viene cliccato il pulsante. E poi, già basterebbe questo per funzionare. Infatti adesso se proviamo a scrivere un numero sul display, ecco, io sto utilizzando il telefono, provo a scrivere 45 e poi gli darò un clic sul pulsante moltiplica per 2 e compare il risultato qui, 90. Ora, che succede? Qui funziona già, ma non ci basta. Noi vogliamo anche fare in modo che venga cancellato il contenuto del text box 1 subito dopo aver dato il risultato. E quindi dobbiamo andare a prendere, nelle procedure, text box 1, è lì che noi andiamo ad operare, e per cui dobbiamo prendere call text box 1 hide keyboard, quindi nasconde hide keyboard, nasconde la tastiera, e poi a questo punto dobbiamo anche azzerare il contenuto della casella text box 1. Quindi andiamo ancora una volta su text box 1, cliccando, e andiamo a scegliere set text box 1 to. set text box 1.text ed eccola qui in basso, la tiriamo dentro, lo inseriamo qui dentro, dobbiamo semplicemente impostare a 0 questo valore, e lo andiamo a prendere da, come abbiamo scelto testo, dobbiamo scegliere il blocchetto, adesso clicchiamo e andiamo con la rotella verso l'alto, prendiamo il blocchetto più piccolo, che contiene una casella di testo vuota, e impostiamo qui dentro, anzi niente, lo lasciamo vuoto, perché dovrà servire proprio a cancellare quello che abbiamo scritto precedentemente. Allora, come prima, dovrebbe già funzionare, ed eccolo che arriva. Eravamo in questo punto, eravamo qui, spostiamo un po' a destra, e continuiamo nelle nostre prove. Adesso moltiplica per 2, è sempre sul numero 45, vedete che hai seguito l'operazione, perché il risultato è 90, e ha anche cancellato il contenuto della casella di testo, e ha fatto comparire con un carattere sbiadito il suggerimento. Posso scrivere, per esempio, proviamo a scrivere 255, e poi quando diamo moltiplica per 2, ci dà il risultato, avete notato che ha eseguito anche questo comando, cioè hide keyboard, ha nascosto la tastiera, e in più ha cancellato il contenuto del numero che avevamo scritto. Noi se vogliamo adesso qui, possiamo fare ancora qualche miglioramento, nella label, qui label risultato, possiamo anche far uscire comunque un altro descrittore, per esempio il segno uguale, e questo potrebbe essere un compito per voi. Poi vedremo come è possibile farlo. Adesso vi do questi 5 minuti o 10 minuti massimo di tempo per provare ad elaborare la vostra aggiunta, perché vogliamo che qui davanti ci esca il segno del uguale, oppure la scritta risultato, due punti. Va bene? Allora, io intanto continuo le modifiche, voi lavorate da parte vostra. Bene, allora ragazzi, con questo l'esercitazione di oggi è terminata, arrivederci alla prossima che sarà la numero 4.